Mutoff 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 E' ancora la difesa del Lecce che recupera la palla e si ripropone quando siamo nel dodicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo 0-0 ancora lo stadio di Via del Mare ora prova l'incursione, si accentra e conclude con il sinistra e c'è il gol del Lecce il gol del Lecce con Butov grandissima azione, grandissima azione di Pagilli a partir di questa seconda edizione che tardò 7 anni in celebrarsi già sarebbe un torneo di selecciones, sub-23, ballone in l'area la Bulgaria che può marcar, saca la difesa Schalz Cerva mani nei capelli, tensione alle stelle da Savito Marulla Vutov contro Riverani parte Vutov, la conclusione della rete il bulgaro Antonio Vutov sigla la sua prima rete in maglia rosso-blu e va ad esultare sommerso da... i due spagnoli, Riverola sulla sinistra intanto attenzione l'arbitro qui, giudica regolare la spinta su Angelo e poi Vutov esalta i riflessi questa Vutov da solo in contropiede contro davanti a sé a Zaffagnini Vutov c'è la mantia dall'altra parte la mantia, l'antovestica e pallone in l'area su El-Sharawi dall'altra parte Douglas si sta occupando soprattutto delle iniziative di pedone lo sta limitando abbastanza bene ma soprattutto i due centrali si accordano che Siku stanno facendo un grandissimo lavoro perché marcare Pettagna non è assolutamente facile ancora una buona iniziativa centrale per l'Udinese con Moras ottimo il servizio in aria e poi arriva anche la confusione per il vantaggio dell'Udinese con Vutov un gol fantastico a livello primavera Petr Stoiano Togresi Gari Rodriguez Gari Rodriguez Timo Netter udari greda Cres 40 dolar 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 De lampください He pute la slu bin Ch900 dolar Cor Buube che si sapevano a cercare la prima domanda l'Ahmèd Hikmè impusca il giro